voilà anche stamattina cominciamo con questo qui come ridotto il coperchio e anche il giradischi a che roba guardate qualche coperchio come ridotto questo qui è irrecuperabile oltre al fatto di essere anche rotto dietro di avere le cose rotte e tutto quanto ecco oltre oltre praticamente ad essere proprio ridotto allo stato larvale tiriamo via il coperchio questo qui un philips eccolo qua diamo via il coperchio mettiamolo qua anche dentro praticamente guardate come è ridotto anche qua così che roba il braccio è disarticolato perché praticamente ne hanno fatto dietro di tutto ovviamente manca la puntina praticamente qui è conciato come è conciato in minimi termini insomma è proprio questo qui l'ho pagato 5 euro in un mercatino anche davanti dove sono le botte ci hanno messo gli adesivi il braccio questo qui praticamente ecco fatto bene abbiamo visto e questo che la parte interna eccola qua come è ridotto il coperchio perché se qualcuno c'è secondo voi chi è che può ridurre chi è che può ridurre praticamente in queste condizioni un geladischio i calci sono due o è un drogato io questo qui l'ho preso a monti chiari o è un drogato proprio che praticamente è completamente fuori di testa come droga che ormai è andato definitivamente o è praticamente un immigrato che praticamente prende le cose e le tratta esattamente e lui questo qui a quanto pare continuando a fregare qui qui e qui pronto probabilmente si dava da fare con i 45 giri infatti visto che il perimetro di fuori non è minimamente toccato tranne che in questo punto però i 45 giri sono palpati bene da tutte le parti oltre avere fatto caso che dal 45 giri in su è tutto chiaro mentre dal 45 giri verso il 33 invece vedete che è nero allora basta solo un colpo d'occhio per capire che utilizzo se ne è fatto di questo giradischi e non occorre praticamente avere la sfera di cristallo insomma ecco per capire la fogna con la quale sono trattate certe cose secondariamente eccolo qua come è uscito aspetta che mi siedo per terra quelli sono più vicino al pavimento lavato il frontale e smontate tutte le manopole rifatto tutto a che bello che è il sanio eccolo qua questo qui è stato l'oggetto del nostro discorsetto di ieri di trovarsi i guasti dopo qua praticamente ho messo io una ma viene via eccolo qua dopo c'è il cavetto sopra per carità perché insomma dal punto ecco niente allora con questo video ritorniamo un attimino qua dove c'è il sony e il prossimo video ce lo troviamo tutto bello smontato vi faccio capire quando la gente porta nei mercatini le cose le porta in queste condizioni perché io il 90 per cento della roba che trovo la trovo in queste condizioni però finché la pago 5 euro la uso come pezzi di ricambio per esempio qua il braccio praticamente non sarà niente di eccezionale però c'è il tappetino una volta lavato se voi andate su internet un tappetino così lo pagate 10 euro più 5 di spedizione e di conseguenza praticamente già il fatto di aver pagato 5 euro solo il tappetino una volta che me lo sono lavato sgrassato ovviamente e tutto per lo meno insomma va bene anche perché di tappetini ne ho estremo di bisogno perché me ne mancano 4 o 5 e di conseguenza quando io trovo questi giradischi anche se hanno la calotta rotta eccetera eccetera io a 5 o 10 euro li porto a casa perché il tappetino costa di più dopo uno dice io spendo i soldi solo se sono sicuro che funziona va bene ognuno ha le sue idee io questo qua l'ho portato a casa per due motivi perché sotto questo philips ga ha esattamente la meccanica di ritorno di due o tre giradischi suoi fratelli di stazza maggiore e di conseguenza la meccanica per quanto riguarda il funzionamento praticamente sotto sono uguali a questo qui è anche un ritorno automatico praticamente questo qui è un tutto automatico automatico e ritorno col sincronizzatore si chiama F7130 questo qui sarebbe il quando schiacciate questo che adesso non si schiaccia più perché è talmente incollato alla che roba è talmente incollato parte per parte sicuramente ci sarà caduta sopra praticamente la birra qualcosa questo qui è 33 45 giri che anche questo fa fatica ecco quindi di conseguenza prima di sforzarlo voglio vedere se è recuperabile se il giradischi è recuperabile a me della calotta me ne frega meno di una cacca perché il disco funziona qua non funziona sulla calotta in Italia invece c'è molto la mania di far vedere la calotta in plastic glass trasparente c'è molto la mania di far vedere l'estetica a me interessa che questo qui funzioni come giradischi poi quando si mette dentro questi mobiletti qui come questo che hanno il coperchio sopra a me che cazzo me ne frega del coperchio del giradischi oppure un domani troverò un giradischi che magari è perfettamente bello però magari meccanicamente è distrutto lo porto a casa e il giradischi mi va bene anche qua come coperchio quindi di conseguenza a furia di portare a casa a volte trovi il coperchio bello il giradischi andato a volte trovi il giradischi andato col coperchio rotto a volte trovi praticamente il giradischi messo bene col coperchio rotto a volte trovi un giradischi senza braccio a volte trovi un giradischi senza tappettino cioè quello che capita basta pagarlo dai 5 ai 10 euro io porto a casa sempre e comunque ciao a tutti